Dall'emistudio di Gurevone di Sanremo che è Franco Solerio Dallo studio di Roma Giulio Cupini Dallo studio di Milano Centro Francesco Facconi E dallo studio traballante perché appena creato di Termoli Michele Vitale Buonasera amici all'ascolto, bentornati su Digitali Abbiamo un po' di novità qui su Digitali Abbiamo per la prima volta il nostro Michele Vitale Avvocato, scusate, Michele Vitale Presidente e fondatore, immagino vero, di bastabollette.it Sì esatto, anche se il titolo io non lo spendo quasi mai Proprio per non far scappare i potenziali clienti dell'associazione Perché si sentono, quello che li spaventa è avvocato o presidente? Quello che spendo è semplicemente, sono Michele, un amico che ti aiuta con i problemi E' il modo migliore per evitare che scappino Presidente o avvocato in genere non funziona Effettivamente nel momento in cui uno si rivolge a un'associazione dei consumatori E' perché è generalmente tartassato e come dire sfiduciato da dei rapporti di forza Assolutamente squilibrati nei confronti generalmente di una grossa azienda Per cui il modo migliore è trovare una mano amica E' una roba tipo alcolisti anonimi, vieni parliamo Non sono qui per giudicarti ma per aiutarti E va bene, poi Michele ci racconterai un pochino anche qualcosa Sono sicuro che Michele l'abbiamo conosciuto dal vivo dopo un po' di tempo che abbiamo passato a chiacchierare Mi ha risolto anche un problema importante Michele, produttore esecutivo di Digitalia Mi ha aiutato a risolvere un problema di doppia fatturazione da parte di due telecom diverse Che continuavano a pretendere pagamenti per la stessa linea telefonica Dove dire che Michele e la sua basta bollette sono riusciti a spennare gli spennatori E quindi sono molto contento che l'abbiamo conosciuto dal vivo all'evento che ha organizzato Max giù ad Avellino E' venuto poi gioco a forza a dire vabbè qualche volta vieni su Digitalia Che magari ci dai quell'angolo un po' da esperto di materia legale che ogni tanto ci manca Per cui benvenuto Michele e vediamo un pochino Sembra di vedere uno che non conosce la lingua e prende parola per parola il dizionario e la mette lì in fila Nell'altro sembra di vedere uno che conosce le due lingue e trascrive e traduce una frase per intero nella frase corrispondente E queste sono veramente cose pazzesche, vedremo veramente cambiare il mondo e il commercio Io posso confermare di aver fatto proprio oggi un test di traduzione dal francese all'italiano prima E la frase era pressoché incomprensibile dal francese all'inglese e pur non essendo perfetta la traduzione Ma assolutamente comprensibilissima, mi è permesso di capire un paragrafo che in italiano riuscivo a intendere E invece per quanto riguarda l'articolo che hai citato sulle economie Ho trovato interessante il punto in cui dice che l'intelligenza artificiale consentirà di ridurre il costo delle predizioni Che sono ovviamente un tema da sempre caro all'essere umano e allo sviluppo dell'economia La predizione, si pensi ad esempio al dash button che abbiamo citato prima Lo scopo è anche quello di predire il comportamento del consumatore per poter vendere più e meglio E questa cosa inevitabilmente porterà a uno stravolgimento dell'economia attuale Sia in termini di maggiore efficacia della capacità predittiva di ogni aspetto della società e dell'economia E sia anche a un minor costo di questa che renderà obsoleti e non più economicamente vantaggiosi Altri strumenti più classici e tradizionali di previsione Anche nel mio campo leggevo che ci sono in America studi legali che usano software di deep learning Per fare ricerche giurisprudenziali e quindi partendo da una fattispecie Arrivare a una sentenza, una massima giurisprudenziale Che praticamente dà la soluzione al caso E questa cosa è tanto più preoccupante per i rappresentanti della mia professione Se si vede che anche in Italia so che ci sono studi che cominciano a sperimentare Favadattare e localizzare questi sistemi al nostro diritto E ovviamente l'avvocato non può donire soli tranquilli Poveri praticanti soprattutto, certo, se non si fanno le ossa su quello Poveri stagisti che non saranno più utili a niente No, non è vero, gli stagisti serviranno sempre Ma in realtà è tutto uno spostamento di quello che è Io non so cosa fai fare tu agli stagisti ai mediatici, Francesco No, noi trattiamo bene No, dicevo, in realtà tutto il problema è uno spostamento di quello che prima Il modo di pesare della rete neurale che funziona Insomma, è possibile che si arrivi di nuovo a un altro inverno dell'intelligenza artificiale A un altro congelamento e che non arriveremo a queste applicazioni fin da subito Però certo oggi la strada sembra molto, molto, molto in discesa e molto lanciata su questo argomento Sì, intanto che Franco secondo me merita una riflessione sul lato umano dell'intelligenza artificiale Che era stato citato poco prima anche da Francesco riguardo lo sviluppo delle applicazioni L'importanza di valutare i dati, saperli selezionare, pesare eccetera Ma secondo me anche a un livello più alto, manageriale Bisogna vedere cosa si vuole ottenere dall'intelligenza artificiale Perché leggendo ad esempio una delle notizie del Back Channel Quella sul manager Facebook che presenta Style Transfer Un strumento per applicare effetti visuali a videochiamate in chat in real time Per esempio per far apparire l'utente come un personaggio dei Simpson Questa cosa che sicuramente è divertente, è carina, ci sta tutta Però la cosa che mi ha abbastanza colpito è Alla fine quando gli si chiede ma qual è la tua vision per queste applicazioni dell'intelligenza artificiale Lui dice la nostra maggior risorsa è il tempo Io sogno un mondo in cui l'intelligenza artificiale ci consentirà di utilizzare il tempo per cose che noi amiamo Ad esempio la traduzione è una cosa che funziona benissimo con l'intelligenza artificiale Non c'è più bisogno di imparare le lingue Io sogno un giorno in cui il tempo dedicato a imparare le lingue lo potremmo utilizzare per passarlo con i nostri cari Il che mi sembra un'affermazione molto molto pericolosa Dire che non è importante imparare una lingua e che questo può essere sostituito da un aiuto digitale Fa pensare a un discorso generale abbastanza pericoloso Che l'uomo deve studiare di meno e il tempo in più deve usarlo per impigrirsi Deve diventare meno colto e lasciare più alle macchine Questo è abbastanza certo Diciamo che non è l'esatto esempio Vediamo di cambiare un pochino argomento Questo qui che mi ha mandato Michele che è proprio materia sua Il registro delle opposizioni si potrà estendere a tutti i numeri fissi e mobili Io con il registro delle opposizioni sono... non lo so Poi chiedo magari a te di spiegare eccetera Ma io sono incacchiata come una bestia Perché quando è stato presentato il registro delle opposizioni No, abbiamo detto ma meno male Finalmente abbiamo queste authority che sono in grado di difenderci Ci danno degli strumenti veri con cui... bene Allora dopo un po' sono andato lì, ho trovato il modo eccetera C'era modo per iscriversi direttamente via web Anche abbastanza facile, non proprio modernissimo Eccetera, ho infilato il numero nel registro delle opposizioni Di colpo sono cessate o quasi le chiamate indesiderate Il mio numero non è nell'elenco del telefono eccetera Però in qualche modo circolava Non saprei dirvi perché Passati sei mesi Piano piano hanno ricominciato ad arrivare le telefonate Sempre di più, sempre di più, sempre di più E oggi ne ricevo una, due, tre al giorno di nuovo Poi gli dico ma che cacchio mi chiamate Se sono sul registro delle opposizioni non chiamatemi più Allora questi mettono giù Forse non mi chiamano più loro ma mi chiamano il loro collega eccetera Ho provato a scrivere al garante E mi hanno risposto anche abbastanza velocemente Mi hanno detto Eh guardate noi non possiamo fare niente Se vi scrivono questi qui Voi avete tutte le ragioni del mondo Se vi chiamano anche se siete sul registro delle opposizioni Dovete prendervi un avvocato Capire chi vi ha telefonato Far di causa andare in giudizio E poi il giudice vi darà ragione eccetera eccetera Ma dico io Non sarebbe il caso di fare dietro a questi strumenti Di mettere anche dei sistemi un po' più semplici Di penalizzazione di chi non li rispetta Perché infatti così sono proprio delle armi scariche Michele Sì In effetti è un po' come dire che Il registro delle opposizioni Che dovrebbe avere lo scopo di evitare Chiamate non sollecitate Non richieste di telemarketing Non serve a niente Che è purtroppo anche il meme più diffuso Se si va sulla pagina facebook del sito E si perdono 5 minuti del proprio tempo A leggere i commenti degli utenti Che anche sugli ultimi post Quelli pseudo promozionali Del registro Che in genere pubblica servizi televisivi Che ne parlano Commentano dicendo Ma io mi sono iscritto la settimana scorsa E continuo a ricevere chiamate Ma mi spiegate a che serve questo registro La cosa triste è che questo registro Costa anche molti soldi Perché sono circa 3 milioni e mezzo di euro all'anno Per la gestione di questa banca dati In parte soldi pubblici In parte soldi che vengono pagati dagli operatori Che utilizzano le banche dati Di numero di telefono Per effettuare le chiamate Che devono chiedere una verifica al registro Quindi se hanno ad esempio Non so la Vodafone o la team Hanno un milione di numeri di telefono Che vogliono A cui vogliono inviare promozioni O chiamare per delle telepromozioni Devono chiedere la verifica Di questo milione di numeri Alla modica cifra di 60 mila euro Quindi voglio dire È un servizio che anche si fa pagare bene Ed è purtroppo un dato di fatto Che non serve ad arginare Questo malcostume delle chiamate indesiderate Quando si va poi a cercare di capire le motivazioni Di solito le più frequenti sono Uno, che i numeri che si chiede espressamente Non vengono inseriti in elenco Non possono aderire ai benefici Del registro delle opposizioni Quindi come dire Io tengo particolarmente la mia privacy Tanto che non voglio Che il mio numero venga inserito in elenco Non posso aderire al registro delle opposizioni E quindi ricevo chiamate di telemarketing A piesso spinto E l'altro motivo Che viene pure spesso invocato Quando al registro delle opposizioni Fanno notare questa inefficacia È che Beh signora Se li chiami Probabilmente lei ha aderito A uno di quei moduli Di richiesta del consenso Alle chiamate E quindi Avendo dato il suo consenso Lei ha autorizzato l'operatore A fare le telefonate Anche se è iscritto a registro Anche se è iscritto a registro Quindi Ovviamente Tra i due Certo I due interessi Quello Evidentemente Forniti in Momenti diversi Cioè L'interesse dell'utente Ha Magari Carpito Casualmente Senza troppa attenzione A quello che firmava Ma Il suo interesse È essere contattato Per Chiamate promozionali Non può essere considerato Prevalente Su quello Invece Fornito Al registro Delle opposizioni Per non essere disturbato Questa è una verità Elementare Che però Non è stata Considerata Dal legislatore Quando Ha Regolamentato Il registro Delle opposizioni E quindi C'è stato Una Una superficialità Diciamo Nel Immaginare E poi Regolamentare Questo servizio Che Ha portato Ai risultati Che sono sotto Gli occhi di tutti Qualche numero Cito Su 12 milioni Circa di utenze Telefoniche Fisse In Italia Soltanto Un milione e mezzo Hanno aderito Al registro Delle opposizioni Nonostante sia In essere Oramai Da più di Quattro anni Quindi Meno di un decimo Poco più di un decimo Della Della Visto come è complicato Iscriverci Se la vedi Dall'altro punto di vista Esatto Addirittura Un decimo E quindi Questo Unito anche Alla Macchinosità Nella Nell'utilizzo Nella Nella regolamentazione Del servizio Cito ad esempio Una Una regola Prevista Per La verifica Dei dati Dei numeri Telefono L'operatore Che voglia Verificare Se I numeri Telefono Che dà impasto Al registro Sono Di gente Che Non si è iscritta Che quindi Può essere chiamata Questa verifica Oltre a costare Tantissimi soldi Può essere utilizzata Solo per 15 giorni Cioè E' valida Scade Come latte Scade dopo Due settimane Il che ovviamente È un periodo di tempo Brevissimo E non giustificato Dalla tasso di crescita Della popolazione Di numeri Presente nel registro Perché se il registro Avesse avuto Un aumento Notevole Esponenziale E costante Dei suoi iscritti Allora Si sarebbe potuto Giustificare Un termine così breve Di scadenza Ma poiché invece I numeri sono Pressoché fermi Da 4 anni Perché nel giro Di 4 anni Sono aumentati Di Poco più di 500.000 persone E comunque Aumentano In maniera Estremamente lenta Non ha nessun motivo Far scadere A così breve distanza A parte Le verifiche Fatte con il registro In un mondo Di open data API Servizi interconnessi Basterebbe tanto Che fornissero Un bel web service Per controllare Così che tutti I operatori Chiedono Al servizio Opposizioni Istantaneamente Se il numero È attivato E gratuitamente Sarebbe così No gratuitamente Dipende Magari Un affidaccesso Per mantenere Ma all'estero Come funziona Tutto questo casino Esiste il problema Telemarketing All'estero Esistono dei registri Del genere Esiste Ne sapete qualcosa Guarda Io Io credo che Sia una normativa Comunitaria Quella in base Alla quale È stato attuato Il registro Delle opposizioni Sull'efficacia Francamente Non saprei Però Immagino Abbiano problemi Simili ai nostri Sulla base Della Della constatazione Che è un sistema Molto popolare È un'app Che tra l'altro Tutti consigliano Sui siti specialistici Sulle stesse pagine Facebook Del registro Delle opposizioni Per evitare Queste chiamate Telemarketing Ce ne sono tante simili Che si chiama Tellos Ah sì Che serve Praticamente A incrociare A identificare Il numero Del chiamante A incrociarlo Con una banca dati Di numeri Considerati Dalla rete Degli utenti Come opprimenti Come fastidiosi E di Promozione Commerciale Non autorizzata E quindi Di ricevere Sul display Un punteggio Che dice Stai attento Questo è un numero Fastidioso Oppure ti dice Questo è un numero Tranquillo A cui può rispondere Non sono così aggressivi E questo Tellos È un servizio Internazionale Presente In decine e decine Di paesi Nel mondo Di una Startup Che ha iniziato La sua attività In Germania Quindi immagino Dalla fiorire A livello internazionale Di queste app Che il problema Delle chiamate Non richieste Sia piuttosto diffuso Ci dice Andrea Che in effetti Nel Regno Unito C'è un registro Ma non funziona 10 chiamate al giorno In media Allora Io sto facendo esatto Un controllo Ho trovato che c'è Stati Uniti Il National Do Not Call Registry In Australia Posso fare il nazista Della situazione Dai ci piaci Siamo nel 2016 Voi mi eleggete tiranno A tempo indeterminato E io faccio una legge Per cui il telefono È sacro Sacro Per cui Il telemarketing Non è che va Regolato Limitato Registro No è vietata La pubblicità Via telefono Oggi ci sono Una marea di sistemi Per fare soldi Attraverso il marketing Chiedetelo a Giulio Giulio non passate La giornata al telefono A rompere le balle Alla gente Per riuscire a vendere Il Dixan Ha degli strumenti Più validi Da cui la gente Può anche difendersi Usate l'email Usate Spammate Così almeno Nella vostra chiamata Nella vostro Elemento disturbante L'email che arriva C'è già il contenuto Della cosa che proponete In modo che le persone Possano costruire O comprare Degli strumenti Si chiamano antispam Che analizzano La vostra proposta commerciale E decidono Se metterla nel cestino O di proporla all'utente E fargli perdere del tempo La telefonata In questo senso È una cosa molto Molto vile Perché suona E ti disturba Esattamente Nella stessa maniera In cui ti può disturbare Il nonno Che sta avendo un infarto Ti costringe a rispondere E ti costringe A perdere del tempo a te Per analizzare La tra virgolette Proposta commerciale Ed è veramente Una cosa Assurda In questo anno Vietiamole Col telefono Si può fare una telefonata Alla volta Non si può costruire Un centro Un call center Che fa Due milioni di telefonate Al minuto Per proporre le cose Si va in galera Non si fa Usate l'email Spammate Che noi ci difendiamo Andate da Giulio Cupini Vi fa una campagna su Facebook Vi fa un sito Vi fa tutto quello che volete Ma il telefono No Io credo che nel 2016 Non si possa pensare Che Possiamo pensare Che abbia delle ricadute Negative su qualche cosa Proibire lo strumento Telefono Come strumento di marketing Evidentemente si Se no non lo farebbero Il telemarketing Ma si ma fanno anche La truffa alla nigeriana Però è vietata Dalla legge Funziona Anche quella funziona Funziona ma è vietata Dalla legge Abbiamo una sola difesa Contro queste cose Io Mi è successo Veramente recentemente Sto cercando di Cambiare l'assicurazione Della macchina Ho fatto numerosi preventivi Con tutte le compagnie Praticamente Ne sono esclusa Sono stato molto attento A non dare consensi Per essere telefonato Uso anche il verbo Essere telefonato Transitivo Esatto Rigorosamente E A un certo punto Una di queste compagnie La Direct Line Mi ha chiamato Io gli ho risposto Ho detto Guardate Eravate nella mia lista Vi ho cancellato dalla lista Mi spiace Non prenderò Punto Semplicemente perché Mi hanno chiamato Io ero stato attento Vediamo in una settimana Quante mi chiamano Il mio esperimento Sta riuscendo Per cui un po' Ne ho levata in questo modo Pian piano Infatti Comunque Aggiungo solo una nota Sono assolutamente D'accordo con Franco L'unico spazio In cui il telefono Mantiene la sua dignità Di rapporto con l'azienda E nella parte Di customer care Dove sono io Cliente Ad attivare E dove sono le aziende La maggior parte delle volte Che ti rimbalzano Infatti Che ti rimbalzano Ed è lì Che c'è il problema contrario Per cui è una follia Nel modo in cui viene gestito Prova a parlare Con Telecom Italia Al telefono Quando hai già comprato La linea Hai dei problemi Ma poi guarda Sono delle cose che Basta che schiacci il tasto Uno Vogliono informazioni commerciali Su una nuova linea Esatto E lì ti passano subito E questo Racconta molto bene La condizione Di asimmetria Che è un tema Molto ricorrente Nei dati privati Nella gestione dei dati Da parte delle corporation L'asimmetria Nella opacità Per cui Noi siamo completamente Trasparenti E loro ci possono chiamare A qualsiasi momento Del giorno O della notte E attivarci i servizi Anche senza Che noi Lo vogliamo Noi per contattare loro Siamo costretti A essere imbalzati Da un disco All'altro E non riusciamo mai A poter risolvere Il nostro problema Perché non abbiamo Un interlocutore A cui sta veramente A cuore La nostra condizione È veramente Una opacità Intollevabile E purtroppo Sempre più Sotto gli occhi di tutti Mi sa che era Un mio pensiero Ma che hai citato Anche tu Durante la conferenza Salerno Che si è Sì La simmetria Esatto Cioè dovrebbe essere Per legge Che se con un click Mi abbono Con un click Mi disabbono Se per disabbonare Ho bisogno di 4 raccomandate Più 60 giorni Ho bisogno di 4 raccomandate 60 giorni Un'altra legge Semplicissima Certo La legge È facilissima Della simmetria Dell'abbonamento Esatto E guarda caso Indovinate cosa consiglia Registro delle opposizioni Nel caso Si ritenga violato Il proprio debito A non essere chiamati Mandare una raccomandata Brava Una raccomandata All'operatore Che ha violato Fantastico Ragazzi Ringraziamo i nostri produttori esecutivi Che poi ce n'è ancora Di queste asimmetrie Di che sono curioso Del mondo delle associazioni Consumatori Ne pariamo tra poco Dai Ne pariamo tra poco I produttori esecutivi Che ringraziamo Tutte le settimane Chi sono Siete voi Ragazzi Ecco adesso ti sentiamo bene Stai registrando Sì Tutto a posto Perfetto Allora spiegami una cosa Di queste associazioni Per i consumatori Perché Funzionano Cioè almeno La tua funziona Io ho avuto un'esperienza Io Non so voi No ma Non ho mai chiamato In vita mia Un'associazione Per i consumatori Perché ho sempre pensato Sì Siamo in Italia Ci sono le cose Che dovrebbero funzionare Ma non funzionano E poi ci sono quelli Che ti dovrebbero aiutare Provano a aiutarti Sono lì a pescare Disperati Che cosa Un mare magnum Ti dicono Che ti aiutano Poi le cose Cadono nel dimenticatoio Qualche soldino Magari te lo fan pagare Anche in anticipo Eccetera E figurati lì Quando mi ha chiamato Michele Mi ha scritto Mi ha detto Guarda sono ascoltatore Digitale Sono produttore Esecutivo Ho detto Ma questo ci mette Nome e cognome E l'ascoltatore Eccetera Si propone Ho detto Vabbè Fidiamoci Proviamo Ed effettivamente Funziona Michele Che ha fatto un mazzo Così Alla Telecom E alla Vodafone È sempre così Michele Funziona veramente Oppure è un mondo In cui andarci un po' Con i piedi di piombo Quello del mondo Dell'associazione Dei consumatori Beh Diciamo che Nel mio settore Posso dire Che Ci sono associazioni Che lavorano bene E che funzionano Non posso generalizzare A tutti Perché Semplicemente Perché Non conosco Ogni singola associazione Noi siamo Un'associazione Molto piccola Nata nel 2012 E ci siamo Ultraspecializzati Perché abbiamo Deciso Per statuto Di dedicarci Esclusivamente Alle controverse Telefoniche E questo Perché Abbiamo deciso Di applicare Il principio Della nicchia Tanto cara Cioè Poche cose Fatte bene Internet Sì Esatto Internet Ti dà la possibilità Di entrare Di individuare Una categoria Di utenti Esattamente Come quella Che tu vuoi E noi Abbiamo scelto Di dedicarci A questo Settore Perché In questo Settore Esiste Una normativa Che una volta tanto Devo dire Funziona Funziona bene E in fretta E consente Di tutelare I diritti Dei consumatori Garantendo In tempi Ragionvolmente Rapidi Rispetto a quelli Classici Della giustizia Si pensi Si pensi A una Corsesi Causa Dal giudice Vipace O al tribunale Che ci mette Anni Per seguire Il suo corso Invece In tempi Ragionvolmente Brevi Di qualche mese Si riesce ad avere Nei casi più lunghi Di un anno Si riesce ad avere Il compenso E l'indennizzo A cui l'utente Ha diritto Certamente Non è Un modello Applicabile In altri Settori Pure Dove i consumatori Sono vessati Avrebbero bisogno Di una tutela Efficiente Avete scelto Un settore In cui è facile Agire In una maniera Snella E garantire Un risultato Luce e gas Non se ne parla Perché l'indennizzo Massimo Consentito Dalla legge È 40 euro Ah quindi Non c'è margine Non conviene a nessuno Neanche lo stesso Utilino Gli spende di più In francobolli Eh certo Esatto Certo Lo immagino Lo immagino E vabbè Speriamo che comunque Ce ne siano Nascano tante altre Opportunità del genere Che poi Il dovere Del 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 governo Dei governi E delle autority Eccetera È proprio quello Di fare dei regolamenti E rendere un pochino più Non rendere più Rendere possibile Alla gente In qualche modo A difendersi Poi è ovvio Che serve l'esperto Serve l'avvocato L'associazione L'avvocato dell'associazione Eccetera Che ti orienta Che ti dà una mano Eccetera Però almeno Che le porte Siano aperte Non completamente Chiuse Come in tante altre Situazioni Vabbè Intanto Grazie Michele Per aver salvato Il sottoscritto Ma so che qualche Ascoltatore Già mi ha chiesto Ma com'era Ogni tanto Ovviamente Sono cose che succedono Abbastanza spesso Quei pasticci lì Delle doppie bollette Delle doppie fatturazioni Ma scherzi Direi Pressoché Regolarmente E purtroppo È proprio questo L'importanza Di conoscere Queste strade E di potervi Accedere In particolare A questo tipo Di associazioni Perché altrimenti Gli operatori Hanno campo libero Di fare quello Ci marciano E veramente Ci marciano Perché per loro È una scelta commerciale Quella Di individuare Il fianco debole Dell'utente E colpire Senza pietà E purtroppo L'utente Se non conosce L'istrumento A sua disposizione Si arrende Paga Perché andare Da un avvocato Costerebbe Uno sproposito E il gioco Non vale la candela È certo Francesco Prima mi sono Dimenticato Di chi è Neanche così tanto Ce l'ho mai Fonfisso Michela è un cingillo Per noi Chi lo sa Sì Ho un podcast Una puntata Di un podcast Che si chiama Il podcast Si chiama 99% Invisible E Lascerò i link Ovviamente Più avanti La puntata È Vox Ex Machina E parla Di questa Macchina Una Di sintesi vocale Introdotta Nel 1900 1839 In epoca Quindi pre Informatica E in effetti È una macchina Fantastica Anche solo al vederla Un organo Governato Da Una sorta di pianista Che si doveva Allenare A combinare A combinare i tasti In modo che riproducessero Le frequenze Della voce umana E gli effetti Sono straordinari Che si possono ascoltare Nell'episodio podcast Estremamente simili Estremamente simili Ai primi esperimenti Le sintesi Le sintesi Dell'epoca Fatte con queste macchine Straordinarie Sono molto molto affascinanti Anche perché si basano Sulla tecnologia Di compressione Degli algoritmi Di cifratura E di compressione Della voce Che utilizziamo Quotidianamente Nelle nostre attività Digitali Molto interessante Mettimi il link Su Slack Che poi lo pubblico Nelle note d'episodio Grazie a Michele Dai Chiudiamo con un'altra Applicazione Di deep learning C'è un'applicazione Si chiama Style App Per macOS